Sì, da sempre c'è stata la volontà, sapevo che prima o poi sarei ritornata a casa, per me è un grande onore, quindi sono felice di questo e adesso bisogna mettersi sotto e cercare di fare quello che si deve. C'è sempre stato qualcosa ma mai nulla di concreto, penso che anche negli anni scorsi ogni mercato c'era torno a Balzano, torno a Balzano, però non c'è mai stato nulla di concreto, si è concretizzato tutti gli ultimi giorni perché io avevo una situazione particolare a Cagliari e non rientravo nei piani della società e quindi sarei dovuto andare via, avevo diverse situazioni e naturalmente la mia volontà era maggiormente quella di tornare qui. Sì, è cambiato spero sotto l'aspetto positivo perché comunque un po' di partite le ho fatte quindi un po' di esperienze naturalmente le acquisisci, è un ritorno a casa perché ho detto prima ho voglia di levarmi qualche sassolino dalle scarpe che ne ho messi tanti in questi due anni. Sono qui per far vedere che ancora Antonio può dire la sua, che Antonio non è perché ha 31 anni è finito, Antonio ha 31 anni e ha ancora la voglia di quando aveva 20. Con il mister all'inizio bisogna avere un po' di tempo per capire bene gli schemi di gioco e il modo di giocare, quindi naturalmente io lo conosco già, di sicuro posso dare una mano parlando con tutti i ragazzi, ma vi posso garantire che tutti quanti hanno già preso la mentalità del mister perché è giusto che sia così. Ma il mister non è una persona che parla tanto, lo sappiamo. Il mister in battute sono abbastanza leggero. Mi ha solo salutato, come stai, mi ha fatto domande su se avevo fatto allenamento con loro, questa roba tecnica, poi lo guardi negli occhi che magari è felice di vederti, però non è un tipo che esprime tutta questa felicità. Benissimo, è un parolone, perché comunque purtroppo per una serie di cose non sono potuto andare in ritiro, quindi ho saltato una parte e di conseguenza mi ci vorrà naturalmente un po' per entrare in forma, ma questo non mi spaventa perché tanto col mister in forma ci entro prima o poi.